Grazie a tutti. Leone d'Oro alla carriera. Grazie. Grazie a tutti. Vorrei iniziare da una cosa. Dolor e gloria è il riassunto anche della tua carriera, ma potremmo fare dolore, gloria e deseo? Perché la parola deseo mi sembra una parola importante. Deseo è la tua casa di produzione. La lei del deseo. È il premier deseo nel film. Sì, assolutamente. Añadir nel titolo la parola deseo è qualcosa di essenziale nella film. La parola deseo è importante in la storia, in nostra vita. In realtà, la mia compagnia si chiama il deseo. E una delle scena più importanti della film è mostrare l'origine del deseo. Il momento in cui un figlio sente per prima volta la pulsione di qualcosa che non può dare il nome, perché è un bambino. E' una scena molto importante e molto delicata. Non c'è la traduzione, scusa, mi dice. Non si sente? No, no. Non funziona. Però non c'è la traduzione perché traduce lei. Non è una consecutiva. Io voglio essere sentito. Sì, sì, no, ma sei sentito. Versione originale. Sì, aggiungere la parola desiderio è senz'altro fondamentale nel film. Potremmo chiamarlo dolor y deseo. Dolori, deseo y gloria. Va bene. Il desiderio è importante, è importante nel lavoro, è importante nella vita. E in effetti la mia società si chiama il deseo. E nel film c'è una scena molto importante che indica la nascita del desiderio. Cioè la pulsione di qualcosa che il bambino avverte e che però essendo bambino a questo non può ancora dare un nome. E poi, anche nel personaggio che interpreta Antonio Banderas, nel reencuentro con il gran amor di sua vita. Cioè, ha sido naturalmente una storia di amore marcata per il deseo, per un gran deseo, per parte dei due uomini. També malograda per le uomini. Ma è molto importante nella scena del reencuentro che quando loro si besano, l'espectatore e i personaggi scopriamo che ancora existe il desiderio e la situazione in loro. E nel film Antonio Banderas, il personaggio da lui interpretato, torna ad incontrare quello che è stato il grande amore della sua vita. Un amore contrassegnato da un grande desiderio che provano entrambi. Un amore che poi è stato distrutto dalla droga. Ma è molto importante nel film la scena in cui si baciano, perché sia i protagonisti, i due personaggi, sia gli spettatori, si rendono conto che questo desiderio è ancora vivo. Il premier deseo è il titolo del film nel film. Allora io vorrei chiederti il premier deseo di Almodovar, ma lavorativo. Il primo desiderio di cinema è anche la tua prima volta, la primissima volta dietro in una macchina da presa. Come è stato? E come ci sei arrivato? La prima volta che ho avuto una camera, ho avuto una piccola camera di super 8 mm. Me la compri con il primo saldo che ho avuto in Madrid nel 1971. Trabajava nella compagnia telefónica di auxiliar administrativo. Però, naturalmente, la mia idea, la mia proposta di stare in Madrid e il sentito, di fatto, di tutta la mia vita, era poter convertirmi in director. Quindi, in Madrid, la scena di cinema, dove io volevo insegnare, la aveva cerrato franco. E come unica scena, ho avuto la camera di super 8. E, da ese momento, io stesso, a me stesso, mi nombré director di cinema. E empecé a rodar piccoli film, però tutte erano argomentali, tutte erano narrativi, con un guion che scrivo. La mia prima volta dietro una macchina da presa è stata esattamente dietro un super 8, che ho acquistato con il mio primo stipendio, i primi soldi che ho guadagnato nel 1971 a Madrid, quando ero impiegato nel settore amministrativo della società telefonica, la società dei telefoni. E la mia idea, che però mi aveva portato a Madrid, e quello che poi era il senso che volevo dare alla mia vita, era fare il regista. Per fare il regista volevo andare ad una scuola, la scuola di cinema, che però franco aveva chiuso. Quindi, la mia unica scuola, ho deciso che sarebbe stata questa macchina da presa, super 8. E mi sono autonominato regista, e ho cominciato a girare in modo sperimentale, scrivendo io stesso le mie sceneggiature, ho cominciato a sperimentare. E così, nel corso degli anni 70, questa super 8 mi ha accompagnato, fino a quando, diciamo, è arrivato il momento di girare con mezzi più sofisticati. Il cinema, credo che si può apprendere anche in una scuola, però, soprattutto, si apprende esclusivamente facendolo. Quindi, io volevo andare ad una scuola, però l'importante in una film è che lo apprendi mentre lo stai facendo. Il cinema si può, senz'altro, imparare nelle scuole, ma il cinema, credo che si impari esclusivamente facendolo, come tutte le cose importanti nella vita che le impari mentre le fai. E, además, è molto buono che uno descubra per sí mismo il linguaggio, e che uno lo utilice per prima volta, perché hai l'impressione di che stai inventando il cine, perché non importa che tutti i plani siano fatto, ma per te, tu lo stai facendo per prima volta. Quindi, a me, la scuola di fare super 8 domésticos con actores, amici, fu l'unica esperienza che tuve, però credo che fu molto valiosa. Con questo voglio dire che se qualcuno vuole fare cine, non esperate a che os gradue in ninguna scuola, sino, simplemente, mirate dentro di voi, e se avete una storia che contare, ponete a contarla di immediato. Che ora non hace falta che compreis una camera del super 8, non podeis hacerlo con il telefonino. È importante quando uno scopre il proprio linguaggio, è importante perché, quando lo fai per la prima volta, hai l'impressione che lo stai creando tu, il cinema. Non importa quanto le diverse inquadrature siano già state fatte da altri registi prima di te, sei tu che li stai inventando. E quindi io così, con la mia super 8, lavorando, facendo produzioni domestiche, con attori, amici, così ho iniziato. E questo ve lo dico perché? Perché vi dico che se volete fare cinema, non aspettate di ricevere qualche diploma da una scuola di cinema, ma piuttosto guardatevi dentro, e se avete una storia da raccontare, cominciate a raccontarla subito, immediatamente. Oggi non avete neanche bisogno di andarvi a comprare una super 8, avete già il vostro telefonino. Bueno, dico mirar dentro de vosotros, però también podéis mirar alrededor de vosotros, che también esas historias hay que contarlas. Si, guardatevi dentro. Lo que mi refiero es que seáis sinceros en lo que contáis, porque es el único, no solo el mejor, el único modo en que las historias funcionen. Si, dicevo di guardarvi dentro, però ovviamente guardate anche intorno a voi quello che succede. L'importante è essere sinceri, perché questo è l'unico modo per poter veramente dire le cose. Ma prima avevi dei riferimenti cinematografici? L'Hollywood degli anni 50 e 60, dove vedevi il cinema? Prima di arrivare a Madrid, chi te lo faceva vedere? Prima di arrivare a Madrid, nel pobo dove viviamo, viviamo in un pobo di Extremadura, mi familia, come la familia di Dolore e Gloria, emigriamo a principi dei anni 60, non a una cueva e non a ese lugar di Levante, però a Extremadura, a outra regione. E ricordo, sobre todo, os cines de verano, perché era cando cambiaban las películas, cando se podía ver cine. e ricordo, come dico, in la película, il gran muro blanco dove si proyectaban le filmi. Se posivano di un modo molto desordenato, era una epoca in cui basicamente si veia molto Spaghetti Western e algunas películas mexicanas, se ponían tamén muchas películas mexicanas, de fantascienza. Però, tamén in esa epoca ja pude ver alguna película de Buñuel, alguna película de Antonioni, alguna película de Orson Welles, mezclada con todos aquellos subproductos del Spaghetti Western que era lo que se veía a principios de los años 60. Io vivevo in un piccolo paese della regione dell'Estremadura dove la mia famiglia era emigrata all'inizio degli anni 60, proprio come la famiglia che si vede in Dolori Gloria. La mia famiglia non è andata a abitare nelle grotte, ma appunto in questo piccolo paese dell'Estremadura dove l'occasione per me di vedere film era soprattutto il cinema d'estate che proprio come si vede nel film era l'unico momento in cui si poteva vedere cinema e c'era questa grande parete bianca dove venivano proiettati i film e venivano proiettati in modo molto disordinato, casuale, non c'era un ordine, c'erano soprattutto tanti spaghetti western, si vedeva anche molto cinema messicano, cinema di fantasia, però già in quell'occasione ho potuto vedere film di Buñuel, di Antonioni, di Orson Welles, tutto questo, tutti questi film mescolati con appunto il sottogenere degli spaghetti western che andavano per la maggiore all'inizio degli anni 60. De todos modos a los 10 años me fui a estudiar el asilerato a Cáceres que era la capital y ya en la capital de la provincia si podía tener acceso a las películas contemporáneas y en Cáceres en la capital que os la recomiendo que la visitéis es una capital bellissima es un lugar bellissimo ya ahí empecé a ver las películas americanas de un modo ordenado y a enamorarme del color de aquella época que era el technicolor de hecho yo creo que la coloración de mis películas se debe a mi búsqueda por encontrar los colores de las películas de mi infancia pues a 10 años y a 10 años y me fui a estudiar a Cáceres que es la ciudad capoluogo de la región de la Extremadura y allí me fui a estudiar a ver un cinema más contemporáneo entre l'altro vi raccomando caldamente de visitar la ciudad de Cáceres porque es una ciudad realmente bellísima estupenda pero ya é lì mi film cominciavano a ser presentados en un modo più ordinado avevo accesso al cinema americano ed é lì que comíncio ad innamorarmi del technicolor e devo dire que probablemente todo el colore que é presente nei miei film riflette questa mia perenne ricerca dei colori de la mia infancia visti nel cinema de la mia infancia quindi el merito del technicolor como? el merito el merito del technicolor sí porque el technicolor por una cuestión química por el revelado que se hacía en ese momento que ahora es imposible conseguirlo porque ahora todo se parece más a la realidad pero los colores eran muy vibrantes absolutamente irreales eran todo menos naturalistas y muy intensos y yo creo también que ese tipo de colores ese tipo de exageración en los colores es algo que también le va muy bien a los personajes que yo escribo y a las historias que yo cuento gracias al technicolor sí 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 senz'altro el technicolor pero esto por razones sostanzialmente de chimica e también por el modo en que era la hora de desarrollar las películas ahora sería imposible ahora los tonos son mucho más que los naturales pero primero los colores eran estremamente vibrantes fortes squillantes y todo si poteva decir tranne que fossero de color naturalistas pero naturalisticos eran muy intensos y esta esageración del colore creo que andase proprio a fagiolo era proprio perfecta para los personajes que yo creo y por las historias que yo racconto Allora io fra le mie memorie di cinema più potenti c'è l'osso di prosciutto di Carmen Maura perché quella è una scena credo che hace yo para merecer esto se lo pronuncio e la pistola de Peppa en Mujeres come nasce tu una volta hai detto le donne sono più divertenti e più vivaci da raccontare gli uomini più noiosi io credo che il tuo cinema sia stato molto molto avanti rispetto al dibattito di oggi come nasce questa tua idea delle donne che le donne così si hai capito si si una sera che le ricordi è la sua Favonna di Carmen Maura la pistola di Peppa e tu siete molto più 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 si in stas dottos secuencias è molto evidente adesso che ora si parlano di l'empodere la mujer con poder quindi credo che è per esempio nel caso che ho fatto io per mereci questo un uomo non c'è mai una pata di jamone per agredire a nessuno e molto meno seria tan ingegnoso come per partirela trocearla e cocerla e convertirla in un alimento in un caldo che è il miglior modo in cui desaparece l'arma omicida sin embargo una moglie credo che si può fare questo Sì è proprio chiaro che queste due sequenze che tu hai citato indicano chiaramente quello di cui oggi molto si parla il women empowerment il potere delle donne infatti nel film che ho fatto io per meritare questo non credo che a nessun uomo potesse venire in mente di usare come arma contundente contro qualcuno una coscia di prosciutto una gamba di prosciutto e soprattutto poi l'idea di cominciarla a tagliuzzare fare a pezzi buttarla nella pentola e farci un bel brodino che è il modo migliore per far scomparire l'arma del delitto la pata del jamone tiene mucha importanza nella cultura española il jamone di hecho è uno dei elementi basici della nostra cultura quindi avere una pata di jamone squalida molto precaria dove solo e per me per mostrare la precarietà della vita famiglia ed è importante il fattore prosciutto perché il prosciutto è veramente un elemento cardine della cucina e della cultura spagnola però il fatto di presentarla così già spolpata quasi finita ti dava un po' proprio l'idea della situazione di precarietà in cui vive quella famiglia e in Mujeres al Borde Donesul Orlo il desafio che ha tra Peppa e Giulietta Serrano è un desafio che si fa in termini femmini per un lato Giulietta loca le roba a los polici le roba 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 però ella sta disposta a utilizzarlas però mentre habla e le explica lo mal che sta de la cabeza quando le habla de suo antiguo amor ella utilizza le roba come proiezione delle mani i gesti con la pistola e è un desafio femminino interessante perché ante una mujer enloquecida con esas due pistolas hai otra mujer armada con un vaso lleno de gazpacho e ese vaso lleno de gazpacho se va a convertir en un arma más poderosa que las pistolas mismas comincia a usare queste pistole per rappresentare muovendole per rappresentare un po' il dolore che ha nella testa e si trova di fronte la sua avversaria una donna che invece ha un bicchiere in mano pieno di gazpacho e in cui c'è una scena in cui Jean-Pierre Léau e sua novia la novia le explicava cómo esparcir la mantequilla sobre un biscotto sin que se rompiera perché a lui se le rompia quindi la novia le dicia cómo poner dos biscottes podias estender la mantequilla e después comertelo in la pellicula Carmen Maura hai un momento en que a los policías le da la receta del gazpacho una receta muy pormenorizada que io naturalmente le pedi a mis hermanas e a mia madre e cando se estrenò la pellicula en Estados Unidos nadie sabía lo que era il gazpacho a pesar di che le divertía molto come armara come arma arrojadiza però per esempio dos o tres años después cuando continué yendo a Estados Unidos ya vi que el gazpacho con la receta de Carmen Maura se ponía en los menús de los restaurantes y me sentí muy orgulloso de haberle enseñado a aquellos chef el modo de preparar un gazpacho si e questo nel film c'è una lezione che ho appreso da François Truffaut che diceva che noi registi dovremmo sempre con i nostri film insegnare qualcosa cioè che in ogni film ci dovrebbe essere un qualche lezione un aspetto pedagogico infatti in Baci Rubati credo e Jean Leó chiede alla sua fidanzata come si fa a spalmare il burro su una fetta biscottata senza romperla perché a lui invece quando ci spalmava il burro lì si rompeva sempre la fetta biscottata allora la fidanzata gli fa vedere che se ne metti una se fai vedere se metti una sopra l'altra le fette biscottate non si rompono e così memore di questa di questa scena e il nel Carmen Maura racconta nel film e con molto dettaglio e minuzia di dettagli dalla ricetta del gaspaccio e che io però ho subito chiesto alle mie sorelle perché non ne avevo idea quando poi prima arrivato in America nessuno aveva idea di cosa fosse il gaspaccio oltre ad aver capito che si poteva usare come arma e quello che mi ha sorpreso tornando anni dopo in America era vedere nei menù di ristoranti la ricetta precisa del gaspaccio come l'aveva formulata Carmen Maura nel film e questo mi ha reso molto orgoglioso c'è qualcos'altro di didattico oltre il gaspaccio che ha insegnato il tuo cinema secondo non lo so perché sono molto pudoroso per pensare in me stesso come a qualcuno che ha dato una lezione o a altra persona però io credo che in mis film i miei personaggi passano per situazioni a volte deliranti molto difficili ma di autonomia che credo che è che è che differenzia in miei film e che come scrittore mi sento con la responsabilità di proporzionare i miei personaggi si trovano si trovano spesso e anche come sceneggiatore mi sento responsabile di questa libertà che do loro come mai ti piacciono così tanto le suore perché scusate perché qui vive con un montone di monjas a questo festival qui nel 83 io mi ricordo molto bene c'era un po' c'era molto scandalo dietro tu hai memoria intratteneble l'indiscreto fascino del peccato per traduzione italiana estrosa devo dire ti ricordi quel momento tu sei arrivato donne suore lesbiche omosessuali succedeva di tutto i drogati i drogati certo non dimentichiamolo no no come ti ricordi quel momento veneziano che è stato poi il primo anche che ha avuto una risonanza ci fu scandalo però il direttore non lo voleva proprio mi ricordo lo ricordo bene lo ricordo bastante bene e fu diciamo io non vedo la mia vita a pesar di che ho superato muchas cosas però nunca la veo come come algo come desafío a los que he tenido que enfrentarme y después los he superado no los veo como en un tono belligerante all'epoca ricordo ricordo el año 83 come uno de los años de mi primera victoria cinematográfica contra la censura porque vamos a hablar en términos reales contra la censura la censura la ejercía el señor Gianluigi Rondi de democracia cristiana que cuando el comité de expertos sugirió que pusieran entre tinieblas pues dijo que era una película obscena anticlerical imposible para este festival y la película estaba condenada a no exhibirse en Venecia con Gianluigi Rondi en el poder pero afortunadamente los problemas con el señor Rondi superaron los límites de la intimidad de un comité y la prensa se enteró de ello entonces fue tal clamor que 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 fue imposible no programar la película entonces no solo quiero decir para mí fue mi bautismo como director internacional pero también fue la primera gran batalla contra la intolerancia democristiana de ese momento no Non credo e non vedo la mia vita in termini di vittoria o di perdite, però ricordo il 1983 come la mia prima vittoria cinematografica nei confronti della censura, perché poi bisogna dire le cose e usare i termini per quelli che sono. Questa censura era esercitata all'epoca da Gianluigi Rondi della DC che quando il comitato di esperti aveva proposto il mio film lo aveva tacciato di film osceno, anticlericale, impossibile da portare a Venezia. E quindi sarebbe stata condannata alla non esistenza, alla non visione con lui al potere. Però questo problema che era insorto ha trasceso i confini del comitato di esperti ed è arrivato in bocca alla stampa. Quindi tanto se ne è parlato che poi è risultato impossibile tenere fuori questo film dal concorso. E questo ha segnato il mio battesimo come cineasta a livello internazionale e ha segnato anche la mia battaglia, la vittoria della battaglia contro l'intolleranza democristiana. Allora, noi mi hanno detto che abbiamo ancora un po' di tempo e quindi vorrei capire se ci sono delle domande per non sottrarre il tempo al pubblico. C'è già una domanda? Buonasera, buonasera, dottoressa de Tassi, Pedro, è un placer. Uno dei miei personaggi preferiti è Allegro, se mi confonde in spagnolo. Applano, Apple. Applano, si, si. Applano in il mio idioma che devi. Applano, applano per tutte le donne, ha assе di che è un transgender. Tuttiinking delle lettiche sono molto attuali. In questo momento in tutta Europa, in cinesi, especialmente in Italia, si discute molto sulla diversità in cinema. Che pensi tu, in questo momento, in il cinema di oggi europeo, perché il tuo io già parla e tocca questo tema. E la seconda domanda è Hai esperanza per le attrici negri in una delle tue film come protagonista? Questa seconda domanda è veramente complicata mi pone in un aprieto sì, sì, chiaro che avrà 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 e è un luogo che io te pido perdone per non averlo utilizzato ti volevo ringraziare per il personaggio tra l'altro di Agrado che a prescindere da tutto rappresenta tutte le donne e oggi si parla molto ti dà molta importanza della diversità nel cinema, nel tuo cinema già c'è volevo sapere cosa ne pensi e se c'è speranza che per una attrice di colore di essere la protagonista di uno dei tuoi film, prossimi film e la risposta è stata questa è una domanda piuttosto complessa che mi mette un po' all'angolo però senz'altro ci sarà questa possibilità e mi scuso di non averlo fatto fin qui con respecto a la presenza di, quiero dire, di altre orientazioni sexuali e del transgénero creo che, fortunatamente, in la actualità non solo nel cinema e in la televisione la società parla di allo e parla di allo incluso más allá di la transsexualità pensábamos che con la transsexualità abbiamo arrivato al limite di possibilità o di espressioni humana con respecto a la libido natural etcétera con respecto a la sexualità però se sta parlando incluso ora con todo derecho incluso tambien lo che si chiama non-identified gender genero non-identificato che sono persone che non si riconoscono con il genero binario con la divisione che si fa di hembra, macho in le hembrali, per supuesto sono inclusi le transsexualità e le transsexualità sino che c'è molta più apertura io credo che è buono di pronto descubrimos che hai más hermafroditas dei que abbiamo pensato non è che sia una proporzione altissima però nel mondo hai molti més dei que pensábamos tambien dentro del respeto a la transsexualità hace 30 anni per poter fare la reasignazione di género almeno in España tenia che ir a un forense desnudarte e che il forense pudiera ver per si mismo che i genitali perteneciano al nome che querían reasignarti a mi eso me parecia una barbarità actualmente non è necessario tampoc la ultima operazione per che io credo che è importantissimo le persone sono le que creen essere dove la genitalità non è lo che determina il género io credo che questo è un nuovo passo molto importante simplemente nel respeto a le persone con respecto a si mesmas e con respecto a los medios di informazione in España almeno che è il paese che meglio conozco i cambiamenti se llevan a cabo dentro della famiglia lo che è un'enorme differenza senza cambiare di scopo con i teoi compagni di scopo che è socialmente accettato e con respecto a la ficzione credo che anche se ha imposto tal vez per il complejo di parità e per il complejo di dire se ha imposto che anche è una moda in cui in tutte le serie ci sono molti più lesebiano che mai sempre alcun transsexual è un elemento che al che sta molto presente ora nella ficzione che mi sembra giusto è dire mi sembra giusto soprattutto perché sta presente nella nostra vita quindi sì io credo che dipende dei luoghi anche dipende delle società di cui parliamo ma è un tema che sì ha avanzato molto negli ultimi 30 anni fortunatamente oggi non soltanto il tema della diversità degli orientamenti sessuali del transgender ma di cui oggi molto si parla nella società ma c'è anche un aspetto quello della transessualità con il quale credevamo di aver raggiunto i limiti di quello a cui si poteva arrivare in termini di discorso sulla libido o sulla sessualità adesso invece molto si parla di coloro che si definiscono che optano per il no identified gender quindi per un genere non identificato cioè persone che non si riconoscono nelle due generi che poi ne abbracciano altri comunque nel genere binario maschio femmina e questo c'è una maggiore apertura se ne parla molto di più scopriamo ad esempio che nella società ci sono molti più ermafroditi di quanto avessimo mai pensato ed immaginato proprio per il fatto che molto di più se ne parla e quindi c'è anche sempre nell'ambito del rispetto della transessualità è cresciuto molto ad esempio almeno in Spagna fino a 30 anni fa nel caso della riassegnazione del genere bisognava prendere appuntamento con un forense con un esperto forense e spogliarsi davanti a questo esperto che ti avrebbe avrebbe stabilito se i tuoi genitali effettivamente appartenevano all'identità che tu dichiaravi ora tutto questo non è per fortuna più necessario e inoltre soprattutto anche perché a prescindere dalla sessualità le persone sono quello e ciò che credono di essere quindi la genitalità non è più un elemento determinante per stabilire il genere e questo penso che sia un passaggio molto importante un'evoluzione molto importante nel pieno rispetto delle persone in Spagna almeno questo cambiamento è intervenuto anche all'interno delle famiglie e anche con i tuoi compagni di scuola continui ad andare nella stessa scuola e tutto viene accettato e anche nei mezzi di comunicazione o nei media ci sono aspetti nuovi ad esempio nelle serie televisive è immancabile la presenza di una lesbica o di un transessuale sembra che ci debba essere sempre e questo sembra anche giusto perché infatti è un riflesso di quella che è la società ovviamente poi tutto questo dipende dalla zona del mondo e della parte del pianeta di cui stiamo parlando ho visto prima lei quindi aspettiamo il microfono perché se no non sentiamo gli altri non sentono se alzate le mani vedo quali sono dopo perché se no il primo che arriva ok va bene è cantata molto felice di assistere a questa masterclass io amo molto Federico Garzia Lorca che ha parlato del duende il duende e per fare una regia per fare l'attore per fare il cinema ci vuole il duende il duende che è che si parlava molto di la cultura del sud e il duende normalmente si intende relacionato al flamenco e si intende come un regalo extraordinario un regalo che ti dà la naturalezza una grazia especial però io credo che il duende per mi è cada volta che occorre qualcosa imprevisto tanto entre un actor e la camera o entre un cantante o un gesto di un artista che di pronto fai un una pintura di un modo irracional però impresionante per mi tutto iso che è difficile quasi impossibile di esplicare è il duende però che diciamo che è qualcosa che necessitiamo per il placer e per come llena nostri vidi esi esperienze sì il duende non ha una definizione precisa ed esatta e chiara però quello che tutto ciò che nell'arte è diciamo inafferrabile sfuggente e anche non spiegabile direttamente ma che vediamo che in noi crea delle emozioni e soprattutto segna la nostra vita ecco questo è il duende García Lorca era più legato alla tradizione del sud della Spagna e quindi il duende nel suo caso si rapportava di più al flamenco ma il duende è tutto ciò è anche regalo o la grazia che ci viene dalla natura una l'eleganza della dalla natura è il duende e ogni volta io lo vedo lo intendo come ogni volta che magari scatta qualcosa tra un attore e la macchina da presa o qualcosa all'improvviso un artista che riesce a creare sulla tela qualcosa improvvisamente che è difficile da spiegare ma ci emoziona quindi il duende è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno perché ci dà piacere e perché riempie ci riempie ci sono ancora tenso due domande la signora là e poi il signore poi arrivo là penso ah grazie penso che finalmente il leone e la carriera le abbia dato quello che le spetta il suo cinema è contenuto e finora abbiamo parlato del contenuto però il cinema ha anche forma e il suo contenuto ha una sua forma specifica il cinema è una lingua e la lingua del cinema sono le inquadrature sono i segreti del regista ecco ci dice perché sceglie un certo tipo di inquadratura quali sono quelle che preferisce che tipo di lavoro fa sugli attori grazie ci sono i segreti abbiamo parlato che il suo cinema è contenuto però anche il cinema il cinema è la lingua la lingua del cinema sono le domande potre dire qualcosa sui segreti perché ili un certo punto perché ili un certo punto di essere un certo punto si il cinema il cinema ose il fatto di fare una film deve combinar un montone di disciplina tra le le la encadratura la fotografica che il quadro ha una limitazione determinata però in effetto hai una razza hai una razza che ha de ver con lo che vuoi vuoi vedere lo che vuoi mostrare lo che vuoi vuoi informare al pubblico in quanto a lo che è la fotografia il quadro della fotografia io depende di ogni momento lo che vuoi contare hai veces che un primo plano che è qualcosa molto semplice contiene tutta la complejità della storia e è lo più expresivo che puoi fare e al contrario voglio dire io in Dolor e Gloria per esempio i pochi planos generali che facia era per mostrare la soledà del personaggio è è è qualcosa che di alcun modo cada uno planifica di un modo cada direttore planifica di un modo però io lo faccio in un modo intuitivo e di acuerdo con quello che voglio contare con questo plano specifico il fatto di fare cinema vuol dire combinare unire insieme in un film molteplici discipline e tutto questo per arrivare ad una certa determinata inquadratura e questa la ragione di una certa scelta dipende da quello che vuoi vedere da quello che vuoi mostrare da quello e delle informazioni che vuoi dare al pubblico e diciamo che l'inquadratura dipende anche da quello che deve raccontare a volte ad esempio un primo piano che è una scelta molto semplice invece in alcune circostanze può diventare estremamente complessa e racchiudere magari tutta l'essenza di un film oppure il piano largo come ad esempio in Dolori Gloria può servire a rappresentare la solitudine di un personaggio io mi muovo sulla base dell'intuizione su quello che in quel momento voglio dire e dipende poi anche dai singoli registi però di tutto io con la camera sto più Grazie a tutti. Per il tipo di storia che sto contando ora. Gli aspetti diciamo più barocchi dei miei primi film vedo che si vanno nel tempo riducendo proprio per quello che adesso io racconto. Quanto tempo ancora? Credo due domande. Andiamo a mangiare. Ragazzo. E poi scusate. Buonas tardes, Pedro. Hola. La Super 8 e tu arrivata a Madrid con il sentito di essere cineasta. Voglio preguntarti come in tua carriera esa necessità di fare cine ha ido variando, trasformandosi. Si ha habito momenti più baixi, più alti e come esa necessità di cine ha arrivato a dolore e gloria. E rispetto a questa ultima, si intiendes l'arte come un medio sanador o per sentirte in pazza contigo mismo e también sanador para los espectadores. Tornando un pochino indietro a quello che ci raccontavi della Super 8 e del tuo arrivo a Madrid, vorrei sapere se questo bisogno di fare film è cambiato nel corso della tua carriera, in che modo se ci sono stati momenti di bassa, momenti più alti e poi rispetto anche all'ultimo film, se per te il cinema ha un effetto terapeutico per te e pensi anche per gli spettatori. Io spero che i miei film siano cambiati nel corso di più di 30 anni dal tempo in cui ho fatto film. Cambiano non solo per la necessità che uno tiene di non ripetirsi, sino anche per una questione meramente biologica. Uno cambia anche con il tempo. Non soltanto cambiano per il bisogno che uno ha di non ripetersi, ma anche per ragioni puramente biologiche perché uno cambia nel corso degli anni. Io credo che evidentemente nei anni 80 ho fatto un tipo di film che corrispondia con la vita che aveva in quel momento e con la vita che attraversava il mio paese. Era la prima decada dove España vivia in una democracia. E' questa esplosione della libertà è evidente nelle film che ho fatto. E' anche molto chiaro nella ultima, in Dolore e Gloria, perché parlo di tre personaggi che hanno stato formato in questa decada. Ovviamente i miei film degli anni 80 riflettevano la vita che io vivevo allora e anche la vita del mio paese che viveva un decennio molto particolare. La Spagna era appena approdata alla democrazia e questo ha significato un'enorme esplosione di libertà. E questo è chiaro anche nel mio ultimo film perché tre dei personaggi del film sono cresciuti in quell'epoca. Io credo che hai diversi punti di inflexione nella mia carriera che a partir della flor del mio secreto comincio a abordare un altro tipo. Osea, sempre sendo la misma persona e tenendo il stesso stile e gli stessi interessi. Però credo che a metà degli anni 90 comincio a cambiare il mio film. Sobre tutto per culminare, credo, se posso utilizzare questa parola, a principi di questo secolo, nel momento in cui faccio tutto su mia madre, parlo con lei e con la madre della educazione, credo che sono tre filmi esenciali nella mia carriera e che dimostrano lo che ho apprendato a lo largo del tempo. e ponen, por si hacía falta, in evidencia, quién soy yo en el lugar donde vivo. Credo che ci siano stati diversi punti di cambiamento nel corso della mia carriera. Ad esempio il primo, il fiore del mio segreto, la flor del mio secreto, segna l'inizio di un diverso tipo di cinema. Per me io resto la stessa persona, lo stile è lo stesso, i miei interessi sono lo stessi, ma qualcosa cambia nel mio cinema e questo cambiamento culmina poi, se mi permettete di usare questa parola, agli inizi del secolo con tre film, tutto su mia madre, parla con lei e la male educazione. Tre film che sono film essenziali nella mia filmografia perché dicono cosa io ho imparato nel corso del tempo e dicono anche, se ce ne fosse bisogno, chi sono io rispetto al posto dove vivo. E credo che in questa trayectoria, in questo secolo, Giulietta anche sposte, già si inizia con La piel che ha avuto, però Giulietta sposte un cambio dove il stile, almeno in cui io sono consciente, è molto più austero che in le filmi anteriore. E questa traiettoria poi continua nel corso di questo secolo che iniziando già, già si intravede qualcosa con La piel che ha avuto per poi arrivare a Giulietta dove il mio stile diventa assolutamente più austero e questa forma di contenimento e di austerità poi si ritrova anche in Dolori Gloria. Acerca della presenza del arte in miei film, per me è essenziali perché define a los personaggi e, bueno, mi define anche a me stesso. Hai volte che pongo un quadro perché mi piace a me. Però, nel caso, per esempio, di Dolori Gloria, il personaggio di Antonio Banderas vive aislato, è una soledà che ha avuto accumulandosi a través del dolore, però a través anche della depresione che le trae tutta la situazione che vive e, anche a través della lezzanà cada vez maiore con il cinema, della sensazione di che non potrà fare una pellicola mai mai. In questo tipo di soledà assoluta in cui vive, i quadri che ha avuto in sua casa, prima di mostrano che il personaggio ha avuto un'esito in suo lavoro. Inoltre, l'unico momento in cui si muestra la gloria del titolo in la pellicola è in le paredi e in la casa del personaggio. Significa che è un hombre che ha avuto un'esito, perché tutti quei quadri sono importanti e hanno costato molto dinero, però sono anche una sua unica compagnia. Inoltre, in un momento in cui la assistente le pide unos quadri per esponirli in un museo, lui dice che non posso darli, io vivo con loro. Inoltre, in mio caso, è lo stesso che la lettura e il proprio cinema, sono le migliori compagnia che ho trovato con cui llenare i vacioli della mia vita. Però, ademais, anche per un cineasta, il mettere qualcosa in la pared, almeno per me, tiene molto significato. In Julieta, per esempio, mostrano a una moglie che vive in una casa blanca, non aveva mai avuto un decoratore blanco, e, assolutamente, con una ausenza absoluta di objetos, che significa non solo la soledà, sino il vacio di questa moglie che ha perdito a sua figlia. Hai un cambio in la pelicula quando aparecen tre cartelli di due exposizioni di una obra di teatro. Per me, come narratore, questo significa che ha venuto a Londres a vedere una exposizione di Lucian Freud. Naturalmente, il espectatore può entenderelo o non, però per me è il significato. Perché hai un cartel di una exhibizione di retrati di Lucian Freud, hai, anche, di un'altra exhibizione di Antonio López, molto desoladora, e di una obra di teatro di Bob Wilson. Per me, non solo sto explicando che lei ha comezato a moverse e a salire di questa situazione, ma che, nel momento in cui sta mirando nel cubo della basura, buscando, il plano lo comparte con un retrato di Lucian Freud. e la composizione, per me, era perfetta. Quindi, il quadro accompagna alla attrice, accompagna di un modo come se fosse un altro actor. Quindi, l'arte nelle miei filmi ha molte funzioni, molte delle le conviene quasi in personaggi. L'arte nei miei film è importantissima perché serve a definire sia i miei personaggi che me stesso. Infatti, magari a volte metto un quadro che è il mio. Nel Dolori Gloria, il personaggio interpretato da Antonio Banderas, vive isolato, vive in uno stato di isolamento, in una solitudine che ha accumulato nel corso del tempo e che si è venuta ad aggiungere alla depressione. E questa solitudine è dovuta anche alla lontananza che lui sente crescere dal cinema, in quanto teme che non farà mai più un film. E in tutta questa immensa solitudine in cui vive, i quadri, che invece vediamo alle pareti, sono un indicatore del successo che lui ha avuto nel suo lavoro. Cioè, l'unico, infatti, prova della parola Gloria del titolo sono questi quadri che noi vediamo alle pareti, perché sono quadri che sono costati molti soldi, che quindi capiamo che sono il frutto della Gloria. E questa sono anche la sua unica compagnia, perché quando la sua assistente li chiede, ci hanno chiesto dei quadri da presentare ad una mostra, lui dice, no, non glieli possiamo dare perché mi fanno compagnia. Quindi io ho sempre pensato che i quadri, lo stesso cinema, i libri, sono la migliore compagnia per riempire il vuoto che uno può avere. E anche come cineasta, per me è importantissimo mettere dei quadri nelle pareti dei set. Ad esempio, nel film Julieta, c'è una totale assenza di oggetti e ci sono delle pareti completamente bianche, cosa che a me non era mai successa nei miei film precedenti. E questo sta a significare, a trasmettere il vuoto di questa donna a seguito della perdita della figlia. E quando è che questo vuoto comincia a riempirsi? Quando nelle pareti vediamo tre affiche, tre cartelloni di tre mostre che lei è andata a vedere. Allora nella mente dello spettatore, o almeno nella mia mente, si dovrebbe attivare il pensiero. Bene, lei quindi è uscita di casa, è andata a Londra, è andata a vedere la mostra di Lucian Freud, di Antonio Lopez e un'altra anche di Bob Wilson. E questa spiega che è iniziata in lei una nuova fase di vita. Infatti c'è quella in inquadratura quando si china sul cesso della spazzatura e si vede il poster di Lucian Freud. È come se l'accompagnasse, come se fosse un altro attore. Infatti per me l'arte è molto importante nei miei film perché a volte i quadri stessi sono diventati dei personaggi. Una brutta notizia per voi, c'è tempo per una sola domanda. È brutta anche per me come notizia. e non so se per scegliere a Pedro. Allora, io ho visto... Ecco, tu hai ragazzo... Sì, sì, sei tu che ti giri perché ti avevo visto prima con la mano alzata. Devo andare un po' a sorte, scusate. Ok, grazie. In italiano va bene? Sì, certo. Ok, perfetto. Innanzitutto, buongiorno, grazie mille. E ho visto che comunque si scrive anche su di lei che il suo cinema è stato influenzato dai film di Fassbinder, di Buñuel e anche di Fellini e Ferreri. Quindi in particolare volevo chiederle come il cinema di Marco Ferreri ha influito sul suo stile e qual è in generale il suo rapporto con il cinema italiano. Grazie. Grazie. Sì, sì, sì. Sì, sì. No, io come espectatore e come cineasta sono un gran admiratore del cinema italiano e, soprattutto in mia adolescenza, se veían molti filmi italiani in España. Io ho manifestato mai di una volta che il neorealismo, per esempio, per me è l'unico genere che attualmente uno può abordare senza farlo al giorno perché funziona come tale in quali parte del mondo. Sì, come spettatore e come cineasta ho sempre detto di essere un grande ammiratore del cinema italiano. Nella mia adolescenza in Spagna si vedeva moltissimo cinema italiano e, come ho detto in diverse occasioni, il neorealismo è un genere sempre attuale che non ha bisogno, a differenza di altri generi, di essere ammodernato o attualizzato. E, además, sono un gran admiratore non solo dei grandi nomi come Fellini, Visconti, eccetera, ma anche altri direttori che ci arrivavano come Mauro Bolognini, Valerio Zurlini, Pietro Germi, Scola, Dino Risi. Realmente, io sono un molto buon espectatore del cinema italiano. E, in quanto a Ferreri, è curioso perché Ferreri lo veo come un cineasta espanol. Talvez perché la prima film che ha fatto, la prima e la seconda, la ha fatto con Raffaele Azcona e in Spagna, e con actrizi, bueno, con alcuni actrizi con le che ho ho lavorato dopo, di fatto, lui fa debutare a Chus Lampreave, o sea, Chus Lampreave aparece per prima volta in una filmazione di Marco Ferreri, e sto parlando del final dei anni 50. Esas filmazioni mi gustavano molto e mi parecían, e mi sentia identificato con ellas culturalmente, mi parecía che nacen in Spagna. Después, también seguí interesándome por él, pero no sé si es, digamos, el director que me ha dejado una mayor huella. Sì, sono grande ammiratore non soltanto dei grandi nomi del cinema italiano, Visconti, Fellini, ma anche di altri cineasti italiani di cui arrivavano in Spagna le opere, come Mario Bolognini, Zurlini, Scola, Germi, Risi. Ferreri, la cosa strana è che io lo vedo come un cineasta spagnolo, un po' perché ha fatto i primi due film in Spagna con Raffaella Scona e poi perché ha lavorato con delle attrici con cui anche io dopo ho lavorato, ad esempio l'esordio al cinema di Cius Lampreave è stato proprio con lui, con Ferreri, quindi molto presente alla fine degli anni 50, mi piaceva, mi identificavo anche con questi film perché li sentivo nati in Spagna, però diciamo che non è un cineasta che ha lasciato se devo dire proprio una grossa impronta nei miei film. No, però lo admiro muchísimo, ricordo come una gran obra maesta, La grande Abufata o Dilling è morto, è una pellicola che quando la vi mi impressionò muchísimo, che è un direttore al che admiro molto è un regista che ammiro molto, la grande Abufata e anche Dillinger è morto, mi ha colpito moltissimo. Sto guardando i miei... Allora, potremmo... grazie grazie a Pedro Nodovar per tutto. Grazie a tutti, grazie per venire.